Open Art, Creative Graphic Design School. Corsi di grafica pubblicitaria, comunicazione visiva, grafica editoriale, grafica multimediale, corsi di web design, webmaster, e-commerce, social marketing, corsi di fotografia, corsi di video editing. Open Art, creativi si diventa! Open Art è a Napoli in via Pessina 90. www.openartgrafica.com openart-mi.com Telefono 081 544 8397